Sarà l'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate a ospitare le gare di nuoto di fondo dall'8 al 9 luglio. Come da tradizione per il quindicesimo anno consecutivo, le acque cristalline del paese di benvenuti al sud, pluripremiate con bandiera blu e con le vele di lega ambiente, vedranno nuotatori e nuotatrici provenienti da diverse regioni d'Italia sfidarsi nel Grand Prix di fondo e mezzo fondo, valevoli anche per l'assegnazione di titoli nazionali. Spazio poi all'attività di propaganda con le gare del campionato regionale Endas riservate a tutti. Le gare di nuoto di fondo a Castellabate sono organizzate dalle associazioni Punta Tresino e Blue Team Stabbie in collaborazione con il Comitato regionale Finna, Federazione Italiana Nuoto e con il patrocino del Comune di Castellabate. Le gare si svolgeranno nello specchio d'acqua dei litorali di Castellabate, con partenza ed arrivo nei pressi della struttura balneare La Pagliarella, alla Frazione Lago. Si parte sabato 8 luglio alle ore 9 con la Traversata del Golfo, gara di 5 km, valevole quale Grand Prix di fondo finna. Nel pomeriggio invece alle ore 18 si noterà sulla distanza di 1,8 km per l'assegnazione del Grand Prix di fondo finna nazionale. La giornata conclusiva, domenica 9 luglio, si aprirà alle ore 9 con il campionato regionale Endas per i sordienti, agoniste e master sulle distanze di 200, 400, 800 e 1.500 metri. Quindi alle 11 seguirà il Grand Prix di mezzo fondo finna su una distanza di 3 km, con cui calerà il sipario anche sulla quindicesima edizione delle gare di nuoto in acqua e libere a Castellabate. Grazie. Grazie.